bisogna accedere sul portale di www.inps.it in alto a destra c'è il tastino accedi bisogna cliccare con accedi nel momento in cui accedi bisogna entrare ormai lo sappiamo tutti dobbiamo accedere con lo speed quindi entra in speed e scegliere qual è l'operatore di utilizzo quindi accedere con la mail e con una password e fare a consento e vi dà la possibilità di di dar il benvenuto sul sito in con nome del richiedente la prestazione dopodiché come vedete dalla schermata in alto bisogna cliccare su sostegni sussidi e indemnità si apre un ulteriore schermata credito welfare e dipendenti pubblici un ulteriore schermata dovete cercare portale in welfare accedi area tematica in questo momento e la novità di quest'anno quindi portale welfare e cliccare in area tematica dopodiché si apre questa bella schermata prestazioni welfare e come la regia ha fatto un grande cerchio con una grande freccia rossa cliccare in gestione benefici in questa bella schermata troverete finalmente finalmente in si è ricordato dove ha inserito diciamo l'esito di graduatore qui troverete il nome del ragazzo dello studente o più se avete più figli e sono entrati in graduatoria è lì che in questo momento trovano la famosa dicitura che dicevamo all'inizio della assolutamente sì marinella quindi in questo momento in graduatoria in attesa di conferma da parte dell'utente quel campo bisogna cliccare quindi cliccare si apre questa ulteriore schermata questa è la schermata dei dati generali dove si evince il bando a cui si è partecipato in questa schermata troverete anche il valore ise diciamo qual è il vostro diciamo contributo che effettivamente viene riconosciuto bisogna dopo che ci sono questi dati accettare il beneficio quindi accetta beneficio nel momento che uno deve essere proprio convinto esce quest'altra schermata questo pop up dove si accetta tranquillamente il beneficio da quel momento in poi vuol dire che il genitore ha accettato e deve confermare voglio dire ha deciso di far partire questo figlio è normale che per poter fare questo passaggio bisogna aver fatto la prenotazione fatto un contratto con il tuo operetto come documenti un contratto una fattura e l'atto di notorietà che serve quindi si apre la sezione dati soggiorno abbiamo evidenziato in verde i dati che vanno inseriti in questa schermata i dati vanno inseriti e li trovate tutti nel nostro contratto nella sezione dati soggiorno e nella sezione dati azienda nei dati soggiorno dovete inserire nella procedura IMS la destinazione del vostro dove va vostro figlio vostra figlia la destinazione il periodo l'inizio del turno perché in automatico la macchina IMS è stata così intelligente che mette già la fine del turno quindi calcola i 14 giorni 15 15 giorni 14 15 notti oppure 7 7 notti 8 giorni di calcola già ok poi va inserito il costo totale del pacchetto poi in automatico c'è l'importo effettivo e l'importo erogabile per importo erogabile è il contributo che riconosce IMS parliamo di soggiorni all'estero 2100 per soggiorni in italia 1000 euro per i 15 giorni per i soggiorni di solo una settimana IMS riconosce 600 euro e poi in base alla percentuale sulla base di questi importi viene calcolata la percentuale che il cliente avrà da parte di IMS poi nella parte sottostante dati società va inserito il codice fiscale o partita IVA data di sottoscrizione il nome della società e la data di sottoscrizione del contratto quindi dati che voi avrete direttamente nel nostro proposto di contratto bisogna cliccare in avanti quindi c'è un tastino blu avanti e si apre la scherbata delle dichiarazioni vanno spuntate tutte e quattro le dichiarazioni dove si evince dichiaro di allegare copia del contratto dichiaro di allegare fattura pare al 50 o al 100 per cento noi marinella facciamo fattura al 100 per cento qui la carichiamo una volta e basta poi dichiaro di allegare atto di notorietà che quel documento che il tuo operator deve avere tutti i requisiti dal tuo operator e infine dichiaro di restituire le quote ad IMS nel caso uno decide poi di non partire per esigenze non a seguito di annullamento malattia per il pensamento quindi si richiede diciamo i soldi indietro bisogna spuntarle tutte e quattro e cliccare in avanti nel momento in cui si clicca nella sezione avanti si apre la schermata degli allegati dove vanno caricati tutti gli allegati come stiamo raccontando marinella ormai in questa diretta i documenti sono sempre tre contratto fattura e atto di notorietà quindi scegli uno si è fatto una cartella sul proprio pc con i documenti da caricare quindi carica prima il contratto quindi lo sceglie tipo di documento vi esce un menu a tendina dove c'è la dicitura di contratto fattura e altro tra parentesi dichiarazioni del tuo operator quindi sceglie contratto e poi lo carica e poi fa aggiungi un nuovo allegato quindi aggiunge la fattura e poi aggiunge l'ultimo lato di notorietà è normale che in questa fase di scorrimento non c'è nessuno ma qualora qualcuno ha fatto ricorso ed è entrato grazie allo scorrimento di graduatoria qualche ragazzo che ha la legge 104 il comma 3 che entra con lo scorrimento per x motivi perché ha fatto un ricorso in questa sezione va caricato nella sezione altro il certificato del medico che attesta il numero degli accompagnatori però se qualcuno ha dei dubbi può contattare tranquillamente il coltentro su whatsapp e anche lì andremo ad aggiornare ad aiutarlo per qualsiasi informazione quindi come vedete dalla regia ogni volta che caricate un documento appare proprio il documento caricato e la dicitura in verifica cioè nel senso che in se lo deve verificare quindi ogni passaggio è ben chiaro e ben visibile tutto quello che voi fate alla fine questa volta quest'anno è ben visibile ed è molto chiaro quindi come dalla regia all'ultima schermata vediamo i tre documenti allegati con la dicitura che hanno cerchiato in rosso in verifica in verifica in verifica vuol dire games deve verificare quei documenti bisogna cliccare ancora sul tasto avanti per la schermata dell'iban bisogna spuntare se l'iban il conto corrente bancario o possale quindi uno dei due e inserire l'iban vi chiedo e vi suggerisco per favore ve lo chiedo per gentilezza di non fare il copia e incolla dell'iban perché nel momento in cui fate copia incolla dell'iba prende uno spazio in più quindi venda di 28 e quindi non vi dà la possibilità di andare avanti quindi vi chiedo di inserire l'iban che è composto da 27 con l'ausilio di corrente familiare perché è formato da 27 caratteri una cosa facilissima ok quindi poi bisogna spuntare le due dichiarazioni dove risulta che il conto corrente può essere deve essere o cointestato o soltanto del richiedente la prestazione e l'ultima dichiarazione e poi fare avanti quindi in questo momento vi fa vedere proprio tutto il riepilogo di tutte le schermate precedenti abbiamo messo due schermate che noi abbiamo messo due schermate perché abbastanza lungo quindi dovete diciamo scorrere fino ad arrivare in fondo alla pagina della schermata un po quello che aveva fatto e fare inserisci domanda perché in quel momento stai confermando a che tutti i documenti che tu hai caricato è correttamente conforme cioè fatto tutto fai inserisci domanda sì e poi c'è questa videata fondamentale importante vi chiedo ve lo suggerisco bisogna cliccare in quel tastino blu invio date ad ins solo in quel momento la procedura è stata inviata correttamente ad ins questo vi permetterà ad ins di fare le sue verifiche e di ottenere il contributo e in automatico nella prima schermata dove era in graduatoria della pratica come diventa in verifica in verifica vuol dire che ins deve soltanto per il che può durare anche per diversi giorni assolutamente si mi scrivono sui social su whatsapp la mia pratica risulta ancora in verifica non è una procedura di standard giorno c'è ins si prende anche delle settimane per verificare la vostra pratica quindi siete tranquilli e un'altra cosa che voglio aggiungere marinella qualora qualcosa manca nella procedura di ins cioè il contratto non è visibile e sbagliato ins vi manda un messaggino con esito negativo ma non significa che avete perso il beneficio vi dà soltanto la possibilità di correggere e rimandare di nuovo in invio dati ad ins la documentazione